Ora ci concentriamo sulla gara lucchese-pescara e per parlarci di come si stanno preparando i giocatori biancazzurri. In studio c'è Massimo Profeta che saluto. Buongiorno, buon pomeriggio Massimo. Anche a te, buon pomeriggio Paolo. Insomma, tre sfide in sette giorni per chiudere il mese di ottobre che darà delle risposte sulla forza e sulle prospettive di questa squadra. In un campionato comunque molto equilibrato, almeno questa è un po' la notizia che è arrivata dalle prime otto giornate. La Torres è un po' la sorpresa, grande sorpresa, la rivelazione con sette vittorie e un pareggio. Tra l'altro ha disputato una grande partita nella trasferta di Perugia dove peraltro stava vincendo per 1-0. Il Pescara chiaramente c'è un po' di delusione, un punto nelle ultime due partite, un solo deludente punto nelle due partite giocate all'Adriatico contro il Pineto. Tra l'altro la prima sconfitta del campionato contro la squadra di Amaulo e contro la Vispesalo, l'ultima gara che ha fatto un po' discutere. Perché è vero, il Pescara ha creato, perché c'è da dire questo, insomma, c'è un problema in attacco. Il problema mi pare sia piuttosto reale e concreto, perché questa è una squadra che crea, però purtroppo non finalizza. In questo momento sono 14 reti realizzate dalla squadra di Zeva, non sono poche a dire il vero, perché è secondo l'attacco del Pescara soltanto alla Cesena che ne ha fatti 24. A pari merito con la Torres che è la capolista del campionato con 14 gol, però gli attaccanti hanno fatto soltanto 6 gol. 6 reti sono poche, soprattutto Merola, lo stiamo aspettando, un giocatore in grado di fare la differenza, soltanto un gol realizzato dall'ex Foggia. Bisognerà migliorare, bisogna essere più freddi, più cinici, meno egoisti sicuramente. Insomma, è peccato un po' di altruismo questa squadra in talune circostanze, in più di una circostanza a dire il vero. Adesso c'è la trasferta di Lucca, una trasferta comunque insidiosa, anche dal punto di vista storico, se vogliamo. Pescara ha vinto in qualche circostanza a Lucca, però un campo difficile, una squadra ben allenata. Gorgone è un ex, l'allenatore della Lucchese, la prima esperienza tra i professionisti. È giocato nel Pescara, lo ricordiamo, nella stagione 2003-2004. Da gennaio a giugno 2004 in Serie B, 16 presenze, un gol. È stato per quasi dieci anni vice di Stellone. Insomma, è una squadra che sa giocare, è una squadra organizzata, soprattutto nella fase di non possesso. L'altro ex è proprio il DS Dell'Icari, che abbiamo sentito, abbiamo intervistato proprio sul nostro sito www.reteotto.it. Un articolo che abbiamo pubblicato proprio questa mattina, insomma, ricordava i suoi trascorsi. Era giovanissimo Dell'Icari, ha giocato due anni in Serie B, dal 91 al 93. È chiaro che il Pescara non ha fatto benissimo nelle ultime partite, Paolo. Al di là del fatto che poteva vincerle le due gare contro il Pineto e la Vispesaro, il Pineto non ha rubato nulla. Bisogna essere onesti, ha fatto un'ottima partita, ha disputato contro la Vispesaro, certamente contro una squadra che ha rinunciato a giocare. Non era facile, è vero questo, però il primo tempo è stato assolutamente regalato. Serviva maggiore qualità, maggiore pulizia tecnica contro squadre che pensano solo a difendersi. Ecco, diciamo che il dubbio è legato proprio al centrocampo, con la presenza di Aloy nel ruolo di play. Non è stato, Zeman ha rinunciato ancora una volta squizzato, due partite di fila ai margini. Sicuramente tornerà in squadra titolare nella trasferta di Lucca del Portanese. Prima di parlare un attimo anche del Pineto, ricordiamo, 12 punti in classifica per la Lucchese, però deve recuperare una partita. Quindi potenzialmente potrebbe averne anche 15. Sì, la Lucchese deve recuperare una partita interna. Sì, contro la Juve Under 23, perché c'erano dei nazionali nella Juve Under 23, quindi è stata rinviata. E ripeto, insomma, la Lucchese... Grande difesa, la seconda del giro. Assolutamente, con solo i cinque gol subiti. È una squadra da rispettare, è una squadra che ha anche delle buone individualità. Per esempio, Guadagni è fedato lì davanti. Insomma, ci sono dei giocatori come Magnaghi, anche il centravanti, che due anni fa col Ponte d'Era, ce lo ricordiamo, ha fatto molto bene, è anche segnato contro il Pescara. Ecco, bisogna cercare di svoltare, se vogliamo, perché questo è un momento, diciamo, non delicato, però diciamo che la frenata è stata evidente. È stata evidente perché ci si aspettava di più. Oggettivamente, in queste due partite, anche perché se poi andiamo un po' a ritroso, non tantissimo, anche la partita di Ferrara. Pescara l'ha vinta, non ha rubato nulla, però la vittoria è arrivata per un episodio, per un infortunio di Del Favaro proprio alla fine. Quindi c'è ancora da lavorare, c'è ancora da lavorare, cartelli lavori in corso, come si dice in questi casi, però ha fatto già un buon inizio. Gli esami non finiscono mai, ovviamente. Gli esami non finiscono mai, bisogna trovare la quadra, secondo me, a centrocampo. Ripeto, è poi in attacco. Purtroppo l'attacco è un problema, perché, allora, Vergani, non so se abbia già deciso Zeman, però sembrerebbe di sì. Tommasini ha fatto, in questo momento... Quindi rimane ai margini, secondo te Vergani. Guarda, io non so che cosa pensare, però è chiaro che Vergani, noi non l'abbiamo mai visto, no? Perché ha giocato due spezzoni di partita, ma pochi minuti. La stessa cosa, dicasi, per Tommasini. È vero che entrambi venivano da infortuni che ne hanno pregiudicato quasi da preparazione, insomma, sono arrivati in ritardo, adesso stanno bene. Tommasini, secondo me, meriterebbe di giocare di nuovo, comunque dal primo minuto, perché finora non l'abbiamo mai visto, se non nel secondo tempo della partita con la Vis Pesaro. Tra l'altro la prestazione, secondo me, è ingiudicabile, perché Pescara non ha fatto, dal punto di vista della manovra, non ha fatto bene, diciamo da tutte, insomma. Dicevamo del Pineto, Massimo, perché il Pineto, notizia di oggi, giocherà le partite casalinghe all'Adriatico-Cornacchia di Pescara fino al 5 di novembre, quando scenderà in campo, in quell'occasione, contro la Fermana. Si tratta della dodicesima giornata. Poi? Poi, al 99%, finalmente, sarà pronto il Mariani Pavone, sarà un gioiellino, abbiamo parlato proprio con il Presidente Silvio Brocco, e quindi il 19 novembre, questa è la data a cerchiare in rosso, diciamo così, il Pineto affronterà, dovrebbe, usiamo il condizionale, quanto mai di rigore, dovrebbe affrontare il Perugia al Mariani Pavone di Pineto. Questa è un po' la speranza del Presidente, mi ha detto poco fa al telefono, il 99% sarà pronto l'impianto di Pineto, appunto, il Mariani Pavone per la partita con il Perugia. Tra l'altro, c'è da dire che il Pineto all'Adriatico, Giovanni Cornacchia, ha fatto molto bene, no? Perché ha conquistato ben dieci punti in quattro partite, tre vittorie, di cui una proprio contro il Pescara, è un pareggio, proprio all'esordio, secondo il giornale, per l'Adriatico. Sì, probabilmente sì, e comunque sta facendo bene, per carità, il Pineto, peccato per Schidone, ricordiamo l'infortunio gravissimo al ginocchio per questo ragazzo del 2003, che era titolare della squadra di Amaolo, non ci sarà neanche pellegrino per un po', però insomma, il Pineto come inizio, no? Perché è la prima volta che partecipa al campionato di Serie C, sicuramente ha approcciato bene.